Parlare in due minuti non è facilissimo, la cosa più rilevante che bisogna dire subito è che quest'anno si svolgerà prevalentemente a Villa Olmo e non in piazza Caur, dove comunque resterà la fiera del libro. Si svolgerà a Villa Olmo, al Broletto, in biblioteca, alla Villa del Grumello dove siamo adesso, come sempre avrà molti incontri di autori, possiamo citare Lamurgia, Beppe Severnini, Alain Alcane, John Johnson ed altri. Ci sarà il ciclo di filosofia anche quest'anno con Nicola Vassallo e altri filosofi, ci sarà il poeta del giorno che finirà con una performance della Lamarck, ci sarà il cinema, ci sarà la musica. Qui cito l'appuntamento più importante che è quello con vecchioni a campione e come sempre ci saranno tantissime cose che credo valga la pena di vedere.